I carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, Direzione Strettuale Antimafia nei confronti di imprenditori reggini Carmelo Ficara, classe 56, Andrea Francesco Giordano, classe 51, Giuseppe Surace, classe 84, Michele Surace, classe 57. Ficare è ritorno responsabile di concorso esterno in associazione mafiosa e concorso in estorsione aggravata dal metodo mafioso. Andrea Giordano e Surace Michele, le reate di associazione di tipo mafioso, esercizio abusivo dell'attività finanziaria e trasferimento fraudolento di valori aggravato poiché è commesso al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa. Le indagini confortano il dato storico oramai specificamente acquisito della Commissione di Interessi tra mafia e imprenditoria, che sovente si alimentano e rafforzano vicendevolmente in un connubio di formidabile capacità intrusiva nel tessuto sociale ed economico. L'indagine, convenzionalmente denominata monopoli, volge in questa direzione, portando alla luce ulteriori esempi di imprese mafiose che hanno imposto al territorio un monopolio di fatto, inquinando il libero mercato ed impedendo agli imprenditori sprovvisti di sponsor mafiosi di competere in condizioni di parità. Alla luce delle complessive risultanze investigative è stato disposto il sequestro preventivo di molte società con relativo patrimonio ammontante a circa 50 milioni di euro, riconducibili a impresa individuale di Orsola di Lollo, impresa individuale Surace e Giuseppe. Inoltre è stato sequestrato parte del patrimonio personale di Carmelo Ficara, consistente in 120 unità immobiliari e 21 terreni. O ce ne va anche più sbirri di merda e ce ne levano un'altra cosa. Mi dici chi sta in mafio? Se stiamo siedendo più cazzo di nessuno. Mettemiglielo. Anche questo deve tenere in conto.